Il Digital Twin applicato al monitoraggio delle infrastrutture è estremamente importante per poter stabilire se e quanto una struttura è sicura e questo è un ambito in cui CAEMET sta operando importanti attività di ricerca e sviluppo per poter sviluppare un sistema che integri simulazione numerica insieme ai dati misurati dai sensori per poter stabilire in ogni momento se la struttura è in grado di sostenere i carichi che gli sono applicati e infine permettendo di far durare più a lungo per esempio quelli che sono i ponti, i viadotti, i tunnel che sono utilizzati da tutti noi permettendo di farli durare più a lungo e quindi estendere la loro vita utile di un 20-30%. Fin da subito abbiamo trovato in Arpaceas il partner ideale per quello che sviluppa CAEMET grazie alla loro competenza nell'ambito della digitalizzazione delle infrastrutture sono stati fin da subito un ottimo supporto perché hanno capito la tecnologia e ci hanno supportati sostanzialmente permettendo di democratizzarla quindi di proporla attraverso i canali giusti e fare in modo che quello che è particolarmente innovativo arrivi rapidamente ad essere utilizzato in progetti concreti.